Ritepi contro Barila Primo pallone Lumaca Terzo tempo, errore Siamo partiti Può attaccare Mollica col bell'assist Per Gramuia, primi due punti per i ragazzi di Rosario Pirrotta C'è il gioco a canestro E c'è il canestro ancora Della Lumaca Mollica finta e doppia finta Va dentro, resiste i contatti Quarto punto per Mollica Bello il gioco, fino in fondo Da due punti, elegantissimo Quarto punto Ci pensa Lorenzo Di Pepi Abbiamo un duo, Borzac di Pepi Ci fa la controdiretta Realizza ancora Mollica Sotto le gambe, assis bellissimo Forse un passo in più Ma dicono sia passo zero Ci pensa Gioffre Poi lo rivediamo Questo qui, questo sarà oggetto Di tante interpretazioni arbitrali Penzo, fino in fondo Resistendo con la mancina Altri due punti Recupera Bagnara Contropiede Gioco a tre bellissimo Contropiede canestro Super contropiede per i Pirrotta's Boys 16-12 Punto per il Bagnara Recupera il suo rimbalzo E va a canestro Ventiduesimo punto Scorpacciata di Canestri Per Mollica Con energia La formazione costiera Caratozzolo, fino in fondo Terzo tempo Di rompente Attacca Lorenzo Di Pepi Lorenzo, fino in fondo Ancora due punti La Luma Caspera Mollica Bello l'assist Smarca il compagno Canestro Di Fedele Che ringrazia Passaggio per Lorenzo Di Pepi Trova il tiro Long tu Difficilissimo Canestrone Di Lorenzo 19-26 Sta spendendo Veramente tanto Mollica Fino in fondo Assist per il compagno Di squadra Da due Bravissimo Mollica E c'è il canestro Di Mani in scalco Per il ventottesimo punto Targado Bagnara Da due Canestro